Partita la gara, primo pallone giocato della formazione in maglia nera del Catanzaro con questa conclusione Morabito, Giampà, lo scambio con De Cari e ancora Giampà sulla fascia mette in mezzo Passaggio per Cristaudo, la conclusione di poco alto Simone De Cario, la conclusione, ci mette il piede Mastellone, c'è una carambola Recupera la palla Cristaudo, la respinta di Mastellone Palla ora per Gallo Palla dentro Ruba palla e va subito alla conclusione Cristaudo, fuori di poco Strangessi la conclusione, la respinta ancora di Mastellone con il piede e subito dall'altra parte la chiusura di Cristaudo Cristaudo, Catanzarese, respinta di Fabio De Cario, la conclusione, ancora una respinta di Mastellone Fabio si allarga, va alla conclusione Strangessi la conclusione, toccate in calcio d'angolo Strangessi direttamente in porta, passa la palla E spinge Gallo in barriera e l'arbitro chiude qua il primo tempo sul punteggio di 0 a 0 Si ricomincia, primo pallone giocato dalla formazione in maglia verde dell'ICR Lamezia Lamezia, intercettato da Madonna, recuperato da Morabito, Fabio De Cario La conclusione, respinta ancora da Mastellone, grande protagonista questo pomeriggio Uscito fuori bene il Catanzaro, la conclusione con la respinta di Bentornato Morabito la conclusione, chiude le gambe e respinge Mastellone, poi ancora Morabito Mardini batte, Triniti, balla out A destra Cristallo, Strangessi mette in mezzo, c'è la calcio d'angolo Dietro per Strangessi, la conclusione Praticamente Strangessi si accentra in mezzo a terra La conclusione, ci mette le mani Mastellone Ancora possesso palla ICR La conclusione del gol di Giampa che si gira e buca Mastellone Questa volta non riesce ad arrivarci Mattia Mastellone su questa conclusione Recupera palla Strangessi, colpisce il pallo Strangessi 2 a 0, minuto 13 Giampa, la conclusione respinta da Mastellone Santi aveva saltato l'avversario e poi perde palla La conclusione di Gallo Conclusione respinta da Bentornato Nardini Alla distanza riesce a segnare Nardini Montesanti La conclusione Toccata da Mastellone in calcio d'angolo Abito Nardini La conclusione alta Andai e vai con Montesanti Non passa la palla e subito dall'altra parte Gallo colpisce il pallo Morabito Fabio De Cario La conclusione respinta Subito battuto Respinta Di Bentornato L'imbucata Per Morabito Che non riesce a colpire Si fa male Perché Ho avuto l'impressione che con la punta Abbia Praticamente calciato a terra Morabito Il passaggio con Montesanti Poteva tirare Morabito Ma c'era davanti Praticamente Simone In mezzo Giampano Riesce a colpire di prima Intenzione E viene fermato La ripartenza Non c'è Mentre Giampano E' ancora a terra E' ancora a terra Giampano La conclusione Con la parata Di Mastellone E finisce qua 2 a 1 Per la formazione La metina Che si era portata Sul 2 a 0 Con le reti di Giampà E Stranges Poi Nardini Ha accorciato Le distanze 2 a 1 Per la capolista Che passa anche Sul campo Della fortuna Cadenzaresa Della fortuna E fredda Che per la Lulee Di Mastellone Che per la Lui Ma Le La Li Lui